io sto cercando disperatamente parenti del sesto grado perché almeno vado a trovarli tanto che non li vedo forse non li ho neanche mai visti questo dovrebbe proviamo un po amide o pronto buongiorno amide o sì ciao sono alessandro se ti ricordi nel 1976 quella volta e ci siamo visti funerale ragazzino il funerale di di piero chi era il cugino della sorella della figlia di zia armida è no no armida no armida la moglie di di cosa come si chiamava gesualdo è è sì ti ricordi io ero mi ricordo ero vestito c'era una maglietta gialla ti ricordi ecco come stai è tanto che ci siamo più visti 44 anni e io guarda poi tra l'altro è stata una ricerca difficile perché sesto grado ho fatto tutti i calcoli ho ritirato fuori anche libri di matematica perché non mi ricordavo come si faceva il calcolo dei gradi è no ecco un'occasione capito per per vederci senti ma siccome ricerco anche altri ti ricordi ti ricordi quello la quello che faceva il panettiere che mi ricorda apparentemente quello non so se quinto o sesto grado armando si bravo bravo armando sia ma è morto si a quando è morto poveraccio ma senti invece no mi dispiace mi dispiace la moglie a aspetta come si chiamava a sì 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 maria sì è a lei è viva ma lei eventualmente ci potremmo incontrare a 99 anni ma dove sta alla casa di riposo al limite potremmo andare a trovarla senti ma te che fai a sempre insieme beh tu a 85 anni si va bene mi ricordo si certo si c'è una quarantina d'anni quando quando ci siamo visti no no vabbè io sono quasi 60 si è tempo passa il tempo passa un po tutte ste fasi però ecco magari potremmo potremmo vedere ah senti voglio dire ma tiziano tiziano ah è morto ah ma è morto il funerale domani c'è di tiziano allora senti facciamo una cosa vediamoci dai vediamo vediamoci vediamoci sì 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 tanto in 15 e vedi un po si trova qualcuno ma senti nell'autocertificazione mettiamo tutti sesto grado e affare fatto sesto grado sesto grado ok ok va bene va un'occasione bella per rivederci dai che bello allora domani si al cimitero di sì 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 quello davanti sì sì cimitero cimitero quello sì a che ora c'è il funerale alle 15 ok allora metti tu scrivi sesto grado tanto non ci vanno scritti i nomi solo il sesto grado tutti sesto grado domani ok tutti al cimitero e bello che bello mi fa piacere mi fa piacere dai dai una bella occasione poi speriamo sia anche una bella giornata va bene va così un'occasione per uscire scampagnata ok ciao è un fatto tanto piacere poi soprattutto domani sarà un piacere ciao 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 sesto grado sesto grado sesto grado sesto grado